ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video allora sto facendo questo video non so se la persona in questione sta guardando sto video perché veramente io cerco di essere calmo però arriva qualcuno che diciamo mi fa esasperare perché veramente già in questi giorni mi irrito e mi incavolo per altre cose preciso non so se sta cassone potrebbe avere ragione o meno perché ripeto è giusto dare anche delle spiegazioni al riguardo allora non so se rimetterò qua poi il commento qua in immagine il video poi nel ti non lo so se lo faccio a me lo vedrete sicuramente censurerò il nome ovviamente per la questione della privacy e non so se la persona in questione si guarderà questo video prima di parlare della cosa in questione poi aggiungere che fra poco ci sarà una live su nifo speed underground 2 quindi sto cercando di preparare la live penso alla quinta per portarvi la nifo speed underground 2 ma non parliamo di questo parliamo di quello che è successo allora una persona non so se è quello delle copertine o meno è venuto nel mio canale dicendomi che praticamente o sto utilizzando una oppure le sue copertine praticamente nei video delle monster non anche qua vabbè ma qua per bevere la cosa di tanto quella che già ho passato in video già ieri comunque e dice praticamente sto utilizzando le sue copertine voglio precisare che io le copertine non lo so se sono tu o meno perché ripeto io non è neanche vengo dal tuo canale perché diciamo che quale persona alcune pensano che le copertine vado nel loro canale e le prendo ma così non è già tempo fa se è verificata una cosa simile quando portavo per chi è più insieme al canale e frate nel funky perché poi è venuto anche in quel caso il proprietario in quel caso aveva ragione perché in quel caso sì alcune mod e lo seguivo anche in quel caso dipendevo da lui ma in questo caso non è proprio per niente così quindi non vado nel tuo canale se sei tu il proprietario a prendere le tue copertine e poi in quel caso ripeto poi ogni volta non so se è il tuo caso è lo stesso di quello ogni volta ripeto venite poi nel mio canale venite a dirla e la utilizzi le mie copertine senza chiedermi il permesso ora ripeto invece di venire così a dirmi utilizzi le copertine senza chiedermi il permesso ci sono modi se secondo me è modi di dire le cose perché ripeto tu potevi tranquillamente dirmi e la stai utilizzando le mie copertine e metti il link perché ripeto non mi faccio nessun problema anche adesso perché con quello che è caduto tempo fa quando portavo un gioco con quello là io ovviamente cosa facevo come sempre nella descrizione quindi oltre al tiro nella descrizione aggiungevo il nome del canale più il link quindi ti bastava ripeto non ho problema a farlo anche adesso ripeto anche se diciamo sto facendo una sorta di rimprovo posso comunque farlo senza problemi posso tranquillamente mettere il tuo nome più il link ovviamente del tuo canale sotto i video dato al copertino perché ripeto nei video non lo dico non lo dico io c'è di solito non pubblicizzo ma nessuno a parte qualche richiesta ma anche se si tratta di copertino non pubblicizzo però ripeto io lo faccio sempre come facevo con lui posso farlo tranquillamente con te se stai guardando questo video e io posso mettere nella descrizione poi del video il nome del tuo canale più ovviamente il link ovviamente specificherò sempre nella descrizione che la copertina che sto utilizzando è la tua ma ripeto non lo so se le copertine sono le tue o meno e se sto facendo questo video stai guardando in questo modo è che come faccio a mettere le copertine nel canale io non vado su youtube nei canali a prendere le copertine ma io le cerco su internet come ve le faccio con le mostre perché forse nel suo caso non le mostre non so se ci sono altri video al riguardo perché ripeto io non porto solo mostre ma porto anche altri prodotti come ho portato diciamo una mezzetta fa portato i cereali inserire e basta porto comunque altri prodotti come per esempio caramelle ma anche le jelly fruit dovrò portarvi avanti e allora faccio vedere come cerco le copertine per utilizzarle nel canale ripeto le copertine diciamo le cerco già diciamo fatte bene potrebbero essere youtuber potrebbero essere comunque che so per esempio su internet ma ripeto io le cerco su google quindi non vado tipo sull'url di youtube a prendere le copertine le cerco su google e le scarico quindi se stai vedendo questo video vedi come faccio a prendere le copertine io faccio in questo modo cerco per esempio nel caso di questa mostre di qua che le copertine le ho cambiate oggi mostre questa di qua energy ultra peaky kin cerco mostre energy ultra peaky kin cerco vado su immagini quindi non vado su youtube ma vado su google a cercarle e scorro io se trovo una copertina decente la utilizzo anzi per da parte è mia è un complimento cioè se fai tu le copertine benvenga perché ripeto io quelle trovo migliori utilizzo e diciamo che sono un po' tutte uguali perché le ritengo opportune di utilizzare nel canale questo per esempio è scritto ovviamente in straniero se la scritto in italiano la potevo anche utilizzare per esempio come per esempio se vedo copertine con le immagini non le utilizzo ovviamente ecco ecco questa di qua per esempio io vedo questa copertina clicco qua faccio scarica e ovviamente scarico la copertina ovviamente oltre ciò ora vedete qua tutto girato vado nella home e apro questo programma non mi nascondo di nulla con questo programma arrivo clicco più e ovviamente comodifico la copertina aggiungendo ovviamente il titolo perché ovviamente io in tutti questi prodotti cose che porto in video è un contenuto c'è una serie che chiamo proviamo cose nuove quindi ti ho mostrato come faccio a prendere le copertine quindi non vengo nel tuo canale a prendere le tue copertine io le cerco su google quindi se mi spuntano su google mica ci posso fare niente io ripeto se stai vedendo questo video prima di concludere voglio invitarti ripeto non ho problemi ripeto voglio invitarti a scrivermi non dico sotto tutti i video ma scrivermi tutti quanti i video che ho portato dove c'è la tua copertina cioè ci sono le tue copertine che sto utilizzando ripeto se sto utilizzando le tue copertine e ripeto non so se ce ne saranno altri video perché ripeto sicuramente ci saranno altri video dove porterò mostre e non escludo che utilizzerò le tue copertine perché ripeto se mi spuntano se tutte le tue copertine sono fatte per esempio in questo modo e allora qua si cambia di nuovo la visuale scusate dove partono le pubblicità comunque fammi chiudere un attimo se tutte le tue copertine sono fatte come queste che sta venendo di qua ultra piki ultra blu in questo modo allora già io li capisco perché diciamo che ho utilizzato principalmente un tipo di copertina in questo modo allora capisco che sono fatte da te ma ripeto ti inviterei a scrivermi sotto questo video ripeto non ho problemi a farti la pubblicità quello che faccio io ovviamente mi scrivi tutti quanti i video che ho utilizzato le tue copertine e io cosa faccio in tutti quei video che ho già caricato modifico metto nella descrizione il nome del tuo canale metterò che la copertina che utilizzo è del tuo canale e ovviamente metterò il link del tuo canale ma ripeto io spero che con questo video perché quando è successo con quella persona non ho voluto evitare ma ogni volta viene qualcuno a dirmi ma utilizzi le mie copertine mi ecco ripeto basta che mi dite sta utilizzando la mia copertina e mi potessi cioè è giusto che mi ometti tipo il link del mio canale così io problemi non me ne faccio a farvi pubblicità poi ripeto con i miei video non lo so quanti iscritti potrei avere perché ripeto neanche sapevo e neanche so se sono due copertine ripeto io con i video non ci guadagno infatti poi vedete da quanti iscritti c'ho io una volta avevo 3.000 iscritti perché avevo un altro canale e me l'hanno chiuso per non questionare questa cosa di qua ma perché comunque youtube mi ha preso di mira per altre cose che non sto qui a spiegare e ripeto non mi faccio problemi a mettere la copertina e la copertina che cavo sto dicendo il link del tuo canale con il nome e specifico che comunque le copertine sono tue io spero che con questo video ti avrai dato bastanti spiegazioni e spero che comunque che stai guardando ovviamente questo video e questo video non è rivolto solamente a te ma anche ad altri che dovessero venire nel mio canale a dirmi sta utilizzando la mia copertina perché ripeto le copertine come avete visto in video io le cerco su google non le prendo su youtube su google quelle che mi spune che ritengo più adatte da portare a utilizzare nel canale le utilizzo come quelle per gta come si possono vedere da qua io appena trovo quella più adatta ovviamente la prendo e ovviamente la vado a modificare ovviamente se ci do mettere tipo miti misteri caso così via o per la mostra che ci metto solamente proviamo cose nuove e così via con questo video vi saluto e ci vediamo penso fra un'oretta o fra poco comunque in live se non ci sono problemi ovviamente ciao